Mia mamma mi ha detto che è una perdita di tempo che io sia qui, che non ho l'X Factor, mi ha mollato in stazione a prendere la corriera. Ma ti ha detto proprio che non hai l'X Factor tua mamma? Vorrei conoscere tua madre, dov'è? Però l'hai presa bene. Ma in realtà, sì, sono rimasto un po' male, sarò sincero, però io credo molto in me stesso. E quindi non voglio che qualcun altro mi rovini il mio sogno. Secondo me ha un rapporto con la madre molto sereno lui, molto sereno. Sì, sì, anche con il padre, anche con il padre. Anche tuo padre ti dice che non hai l'X Factor? Ma diciamo che l'ha saputo un po' tardi che io fosse qui, cioè lo deve ancora sapere.